Agli inizi del Settecento la penisola iberica si mostrava così Gli arabi erano riusciti a conquistare gran parte della penisola e ogni tanto facevano delle puntate anche nelle terre confinanti L'avanzata araba fu fermata definitivamente a Poitiers nel 732 da Carlo Martello, uno dei capi dell'esercito franco Ma chi erano i Franchi? I Franchi erano una delle tante popolazioni di origine germanica che si erano stabilite in Europa e avevano dato origine a un regno nel territorio che oggi chiamiamo Francia A differenza però degli altri popoli germani i Franchi non si erano convertiti all'arianesimo Erano passati dall'essere pagani al diventare cattolici Ecco perché da subito la Chiesa ebbe un rapporto particolare di amicizia con questa popolazione Gli Franchi erano poi dei cavalieri abilissimi e guerrieri molto temuti Utilizzavano la staffa come facevano gli Unni e quindi riuscivano a tenersi le mani libere per potersi destreggiare con le armi E poi erano considerati praticamente quasi invincibili Allora tieni ben a mente queste due circostanze Amici della Chiesa perché convertiti al cattolicesimo e guerrieri considerati i migliori di tutti Il figlio di Carlo Martello, Pipino il Breve venne nominato anche lui come il padre maestro di palazzo Ma chi era un maestro di palazzo? Originariamente era un po' come un maggiordomo doveva occuparsi di far funzionare il palazzo dove risiedeva il re Col passare del tempo divenne sempre più importante fino a che non arrivò addirittura a prendere il posto del sovrano In che modo? Ma Pipino dichiarò che il sovrano era troppo debole per governare e lo fece rinchiudere in un monastero Poi convocò l'assemblea dei guerrieri, dei capi, dei soldati e si fece incoronare re Non fu difficile attuare questo piano perché già da molto tempo i re dei Franchi erano stati soprannominati re fannulloni Erano re che spesso morivano giovani dopo aver vissuto nei loro castelli, nell'usso, nello sfarzo ma che sostanzialmente non si occupavano degli affari dello Stato Ecco perché cominciarono a prendere il loro posto appunto i maestri di palazzo Ma torniamo a Pipino Una volta incoronato re poiché era figlio di Carlo Martello Pipino inaugurò una nuova dinastia la dinastia carolingia Questa è un'illustrazione molto antica che è una specie di albero genealogico solo che invece di utilizzare l'immagine di un albero ha immaginato tutti i componenti di questa dinastia come se fossero affacciati alle finestre di un castello Questo è Pipino il breve Questo invece è il simbolo di questa dinastia carolingia Prendersi il trono così però significa commettere una usurpazione Cioè in pratica oggi noi lo chiameremmo un colpo di Stato Appropriarsi di un potere che legittimamente non si può prendere così perché si prende con la violenza Ma se domani un erede legittimo venisse a reclamare il trono Allora Pipino non voleva rischiare di trovarsi in questa situazione e trovò nella Bibbia la soluzione al suo problema Nella scrittura si raccontava di Saul Saul era diventato re non perché figlio di re ma perché il profeta Samuele lo aveva unto con l'olio consacrato Quindi se il papa lo avesse consacrato lui sarebbe diventato un sovrano legittimo e nessun erede avrebbe potuto presentarsi e reclamare il trono Il papa di allora Stefano II sarà favorevole a questa proposta ma i franchi in cambio avrebbero dovuto cacciare i Longobardi Cosa c'entrano i Longobardi? Allora osserviamo questa cartina Territorio di Roma Qui ci sono i possedimenti dei Longobardi Qui ci sono i possedimenti dei Longobardi Il Regno d'Italia Il Ducato di Spoleto Il Ducato di Benevento Ora Roma non è in una bella posizione perché praticamente si trovava schiacciata tra due poteri forti perché col passare del tempo i Longobardi erano riusciti a portare via il territorio che era governato che era stato governato dai bizantini Il papa cosa fece? Consacrò Pipino il breve lo fece diventare in pratica un re sacerdote cioè una figura che aveva due poteri uno potere dato dagli uomini e un potere datogli da Dio attraverso il papa Pipino mantenne fede alla sua promessa nel 756 scese in Italia sconfisse i Longobardi e poi donò al papa un territorio che comprendeva ben 22 città quindi il territorio di Roma da questo spazio si ampliò e diventò grande così qui ci sono tutte le città che sono diventate possesso dello stato pontificio Ma allora anche qui abbiamo un doppio potere cioè il papa non è più soltanto un capo spirituale perché è capo della chiesa ma diventa anche un sovrano a tutti gli effetti Allora chiariamoci un po' le idee Intanto partiamo come al solito dalle parole Potere temporale indica il comando sui territori sui regni Potere spirituale indica invece il comando su tutto ciò che concerne la religione Quindi potere sugli uomini potere sulle anime Il potere temporale era di solito affidato alla figura di un sovrano il potere spirituale ce l'aveva il papa In questo modo però noi abbiamo visto questi due poteri mescolarsi perché Pipino aveva il potere temporale perché era re dei franchi ma era stato consacrato dal papa e il papa era sicuramente il capo spirituale della chiesa ma governava anche su un territorio Questa situazione non piacque assolutamente all'imperatore d'Oriente che protestò vivacemente Allora i notai del papa falsificarono un documento e sostennero che quei territori in realtà appartenevano alla chiesa da moltissimo tempo perché erano stati donati al papa addirittura dall'imperatore Costantino quindi all'epoca dell'impero romano questo documento si tramandò nella storia e si credette che fosse vero fino addirittura al milleottocento al millequattrocento perché solo allora gli studiosi si accorsero che in realtà era un falso ecco dunque come si presenta l'Europa nella seconda metà del settecento questo è il regno dei franchi in verde abbiamo i territori dei longobardi questo è ciò che rimane dell'impero bizantino e questo è il territorio affidato alle cure del papa